C'è un mondo di persone che si occupa di te. Sostiene la cultura della sicurezza e dà valore al tuo lavoro. Assicura il lavoratore dai rischi di tutti i giorni. Garantisce assistenza a chi ha infortuni sul lavoro o malattie professionali. Protegge la tua salute con la ricerca scientifica e tecnologica. È il mondo INAIL e tu sei al centro del nostro impegno. Allora, questa è la mia firma per i colori del Genoa. Ho passato, devo dire, gli ultimi quattro anni della mia carriera splendidi. Il Genoa è veramente una fede. È una fede per i propri tifosi. Io mi sono appassionato, ho vissuto dei momenti meravigliosi come il quarto posto nel 1991-92. La successiva semifinale di Coppa UEFA. A proposito della Coppa UEFA, penso che dopo la vittoria del Mondiale 82 il più bel ricordo per me è stata la vittoria dell'Anfield Road. L'Anfield Road contro il Liverpool è stata una vittoria entusiasmante. uscimmo dal campo applauditi da 20, 30 mila, 40 mila tifosi inglesi. E la passione del tifoso genoano, pensate, più di 10 mila, 20 mila tifosi genoani che ci hanno seguito a Liverpool è stato un ricordo indimenticabile. Per cui consentitemi di regalare al Museo e ai tutti i tifosi genoani questo mio pensiero con grande affetto. veramente. Allora, Belin, forza Genova! Belin, va bene. C'è un mondo di persone che si occupa di te. Sostiene la cultura della sicurezza e dà valore al tuo lavoro. Assicura il lavoratore dai rischi di tutti i giorni. Garantisce assistenza a chi ha infortuni sul lavoro o malattie professionali. Protegge la tua salute con la ricerca scientifica e tecnologica. E' il mondo INAIL e tu sei al centro del nostro impegno. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.